Che differenza c'è tra l'eco e sisma? Allora, sisma bonus è un argomento completamente a sé stante, completamente diverso dall'eco bonus, a partire dal fatto che non c'è un portale dove depositare le asseverazioni, ma vengono depositate in comune. Il decreto impone che per ogni asseverazione ci sia una polizza specifica, quindi non è possibile, come nel caso delle asseverazioni energetiche, comprare delle polizze cumulative dove mettere più asseverazioni sismiche. Quindi per ogni asseverazione ci vuole la propria assicurazione. Purtroppo quindi c'è un'unica compagnia che propone polizze a progetto ed è HD. Di polizze valide, idonee, cioè che funzioneranno, io non ne conosco altre. C'è solo HD che propone la polizza, quindi nella formulazione a progetto, nel senso che si deve compilare un questionario dove si danno tutte le indicazioni di quello specifico intervento che si va ad asseverare. Il premio minimo di questa assicurazione è 690 euro, perché corrisponde al massimale minimo imposto dal decreto, che è mezzo milione. Quindi anche se devo asseverare i 96.000 euro, che sono il tetto massimo previsto dal decreto appunto per le asseverazioni sismiche, devo comprare un'assicurazione che ha massimale mezzo milione e quindi la pago 690 euro.